Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS Io... volevo farti una domanda Sì, dimmi Com'è morto, Frederic? Frederic? Ma non è morto Ah no? No! Mi dispiace No, no, lui è partito Una mattina ha preso tutta la sua roda, la sua auto e... È partito Scusa, mi pensavo fosse morto Sergio mi aveva detto... Non avete più avuto le sue notizie? No È stata la sua scelta Ma sono sicura che un bel giorno tornerà È strano lasciare la propria famiglia in questo modo Almeno lui ne ha avuto il coraggio Sergio avrebbe voluto che il figlio gli succedesse che diventasse come lui Ma Frederic aveva altri progetti Per dirla tutta, Sergio non ha mai accettato la sua omosessualità È stato molto duro con lui E molto violento È bello che tu sia tornato Un vizio di famiglia Da gennaio al cinema Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti